Dobbiamo pregare perché il cuore di questi giovani possa svuotarsi, svuotarsi di altri interessi, di altri amori, perché il cuore divenga libero. E questa è la preghiera per le vocazioni. Signore, mandaci, mandaci suori, mandaci preti. Defenderli dell'idolatria, dell'idolatria della vanità, dell'idolatria della sopervia, dell'idolatria del potere, dell'idolatria del denaro. E la nostra preghiera è per preparare questi cuori per poter seguire da vicino Gesù.